Il problema è che loro perdono anche... La messa si fa con i frati che si hanno è, diciamo, la fotografia. Raimo Zanchini-Fornero, prego. Gli ordini francescani hanno una democrazia diversa interna, si discute, eccetera, eccetera. Ma noi discutiamo i frati. Allora, l'esito di queste elezioni sembra comunque vada vile e questo in questo momento è... Perché? Che vuol dire? Nel senso che il massimo che uscirà è Casellati, Presidentessa del Consiglio e Renzi al Senato. Non c'è una sola figura luminosa che... Se uno grande ne avete, lo tratta come lo tratta, se avete Draghi... No, nel senso, allora, dico questa cosa piccolissima. I tecnici esistono. La Costituzione italiana ha previsto la partecipazione dei tecnici alla democrazia. Pietro Calamandrei diceva, benissimo, il tessuto sanguigno della democrazia è fatta dall'associazione, le tecnici, gli intellettuali, i giornalisti, si iscrivessero ai partiti. Mario Draghi si iscrivesse al partito, Cottarelli si iscrivesse in un partito, Tabacci, facesse politica... Tabacci l'ha affondato, ha fatto di più. Professoressa Fornero, invece, è la professoressa Fornero che non si è né iscritta né l'ha affondato. Professoressa Fornero. Si iscrivesse a un partito, affrontasse... Se posso dire... Sentiamo, prego professoressa, tanto a casa non si sente lo studio, si sente lei. Vado a provare.